Il 1900, il secolo più sanguinario della storia europea, comincia in realtà con il trionfo della pace. Dal 1870 per ben 30 anni in Europa non c'erano state guerre. L'ottimismo e la fiducia nelle capacità umane erano stati sottolineati da alcuni avvenimenti. Il primo ad esempio nel 1894 quando si riunì il primo comitato delle olimpiadi moderne che decise di riaprire questa celebrazione sportiva e in effetti ad Atene nel 1896 si tennero le olimpiadi. Perché questo fatto è importante? Perché lo sport è uno dei modi migliori per celebrare l'unione, la fratellanza tra le varie popolazioni. L'arrivo del nuovo secolo fu celebrato anche a Parigi con una esposizione universale. Cos'è un'esposizione universale? una sorta di enorme e magnifico expo in cui mostrare tutto ciò che l'uomo era stato capace di produrre fino a quel momento. Non è la prima volta che si tiene un'esposizione universale. questi avvenimenti erano cominciati già dalla metà del 1800. Questa di Parigi però del 1900 è un po' particolare perché sembra proprio dare inizio al nuovo secolo. La città sarà trasformata, verranno costruiti quelli che oggi chiameremmo dei padiglioni. Ad esempio questo che vedi nella figura è come un grande planetario in cui la gente poteva vedere la rappresentazione della volta celeste. Vennero poi fatte delle migliorie nella città. Venne costruita un marciapiede particolare, un tapis roulant, per cui la gente saliva su questo marciapiede e veniva trasportata senza bisogno di camminare. Fu costruito il petit palais, il grand palais e venne inaugurata anche la metropolitana. Cosa si poteva vedere nell'esposizione di Parigi? Ma tantissime cose. Fai conto che ci furono circa 84 mila espositori. I protagonisti di questa esposizione furono ovviamente i nuovi prodotti che aveva creato la seconda rivoluzione industriale. Quindi tutte quelle meraviglie tecnologiche che all'epoca erano veramente cose che lasciavano la gente a bocca aperta. Simbolo di questo periodo è la pace, il progresso, l'ottimismo. Questi sono i sentimenti della gente convinta che il futuro potesse portare solo cose buone e meravigliose. Ecco perché il periodo che va dal 1900 al 1914 viene chiamato belle poche, i bei tempi. Una delle rappresentazioni migliori di questo periodo è la bicicletta che simboleggia la velocità, la velocità con cui la gente riesce a spostarsi e con cui anche riesce a far circolare le informazioni. La fiducia nelle capacità dell'uomo sembra trovare e conferma nelle invenzioni della seconda rivoluzione industriale. C'era già stata una rivoluzione industriale che aveva stravolto il modo di produrre perché si era passati dalla forza lavoro umana e animale a quella della macchina a vapore. Ma adesso c'era una grande novità. Gli effetti di questa seconda rivoluzione industriale si fanno sentire nella vita quotidiana, nella vita della gente comune, cioè in pratica. Non stiamo più parlando di una macchina a vapore, ma stiamo parlando di lampadine, automobili, macchine fotografiche, biciclette, illuminazione stradale. Insomma, stiamo parlando di beni di consumo. Beni di consumo durevoli però. Vediamo la differenza con quello che avevamo imparato finora. La prima rivoluzione industriale aveva permesso di produrre generi alimentari e tessili ad un prezzo molto più basso, proprio perché erano nate le industrie. Questi beni di consumo però sono immediati, sono beni di consumo immediati che vengono consumati velocemente, non rimangono. Adesso invece la gente può acquistare prodotti che durano nel tempo, sono beni di consumo durevoli. questi beni di consumo durevoli, proprio perché rimangono e hanno un valore maggiore, diventano subito dei simboli. Poter possedere una bicicletta, poter possedere un'automobile fa la differenza. sempre più persone vogliono questi prodotti. Li vogliono avere, li vogliono poter acquistare. Nasce cioè la società dei consumatori. Gli industriali adesso hanno un altro problema. Devono fare in modo che sempre più consumatori acquistino i loro prodotti. Come è possibile? Sicuramente migliorando la distribuzione. Cioè creando una rete di negozi che possano raggiungere tutte le persone. l'idea è quella di realizzare degli ambienti in cui si trova un po' di tutto. In questo modo il cliente ha concentrato in un solo luogo tutto quello che desidera, tutto quello che sta cercando. L'invenzione dei grandi magazzini non è nuova. Risale già alla seconda metà dell'Ottocento a Parigi e poi nelle principali e più grandi città europee. Ad esempio a Milano nel 1877 nascono i grandi magazzini chiamati alle città d'Italia. L'idea è venuta a Ferdinando Bocconi, un ambulante di Lodi, lo stesso tra parentesi che 25 anni dopo fonderà proprio a Milano quella che oggi è la più prestigiosa università italiana di economia. In questi grandi magazzini, in particolare questi magazzini alle città d'Italia che furono i primi a Milano e che più avanti diventeranno la Rinascente, quella che oggi è la Rinascente, come erano organizzati? Erano organizzati in modo che i clienti entrando potessero trovare diversi reparti ciascuno con una certa categoria di prodotti. Questa idea non è solo dell'Italia e non è solo dell'Europa. Negli Stati Uniti questo fenomeno si diffuse molto rapidamente e su vasta scala. Tieni presente un'altra cosa che per permettere la diffusione dei prodotti anche nei centri abitati più piccoli e distanti dalle grandi città, immagina gli spazi degli Stati Uniti dove si devono raggiungere anche paesini o addirittura fattorie isolate, si ricorre alla vendita per corrispondenza, cioè in pratica nient'altro che la nonna dei vari Amazon o Zalando o Compagnia Bella. In pratica come funzionava? Il cliente consultava un catalogo che all'epoca era ovviamente cartaceo e poi ordinava il prodotto che gli veniva recapitato a casa. Non solo, ma per venire incontro a chi apparteneva a una classe sociale meno ricca fu data la possibilità del pagamento rateale, cioè l'opportunità di pagare un po' per volta. Insomma, tutto meraviglioso, tutto molto bello in questa Europa di inizio secolo. Guarda attentamente questa carta, questa è una cartina dell'Europa, ovviamente una cartina un po' satirica diremmo oggi, che è stata rappresentata nel 1870. Ogni stato è raffigurato con una caratteristica particolare. Guardiamone qualcuno insieme. Ad esempio, la Prussia è rappresentata come un gigante, un soldato gigantesco e sovrappeso, pronto a dominare l'Europa. Guarda il suo atteggiamento. Con il ginocchio tiene schiacciata l'Austria. L'Italia, dal canto suo, che ha il viso di Giuseppe Garibaldi, mentre tiene d'occhio la Francia, con le mani cerca di tenere lontano lo stivale della Prussia. Oppure l'Inghilterra è rappresentata come una vecchia e nobile signora, vedi la piuma sul cappello, che se tiene d'occhio l'Europa, le volta però le spalle, in un atteggiamento come dire, quello che accade nel continente mi interessa fino a un certo punto, e tiene al guinzaglio l'Irlanda. Anche questo non è un atteggiamento del tutto positivo. Oppure la Russia, rappresentata come un essere spaventoso, arcinio, che si avvicina a grandi passi al cuore dell'Europa. Questa carta non mette in risalto i rapporti e le relazioni positive tra le nazioni. Al contrario, sembra quasi profetizzare che gli stati, in realtà, hanno molto da discutere e non andranno d'accordo ancora per molto.